Scegli il posto giusto dove fare la spesa. Punto vendita Ciro Amodio. Invia Flaminio Rispoli 2 a Santa Lucia di Cava dei Tirreini. Il nuovo piano di dimensionamento scolastico varato nei giorni scorsi dall'amministrazione Servalli resta al centro delle polemiche in città. A storcere il naso sono stati in particolar modo genitori e docenti di Santa Lucia e Sant'Anna poiché si teme un crollo delle iscrizioni alla scuola media di Santa Lucia che metterebbe a rischio nei prossimi anni anche la sopravvivenza del nascente istituto comprensivo Santa Lucia. A manifestare il suo disappunto il consigliere comunale di maggioranza Franco Manzo il quale già nelle scorse settimane si era fatto portavoce delle istanze dei soggetti interessati. E' stato un colpo secco che abbiamo avuto perché io mi sento affiancato da sempre su questa battaglia insieme ai genitori ma non solo ai genitori di Sant'Anna e Santa Lucia. Erano i genitori di Sant'Anna e Santa Lucia ma anche quelli della Balzico Centro e anche gli insegnanti della Balzico Centro che hanno sostenuto la seconda ipotesi di quel piano che era la più giusta. Era un'ipotesi che consentiva la continuità didattica, era un'ipotesi che garantiva di più la tenuta anche della scuola media per il futuro a Santa Lucia. Ora queste due cose dalla scelta fatta, sulla quale io dissento chiaramente, sono messe in discussione. Certamente la continuità didattica da subito, la scuola media, il futuro di questa sezione della media della Balzica a Santa Lucia è una cosa che dobbiamo poi verificare nel tempo. Noi saremo presenti, io sarò presente a fianco ai genitori, agli insegnanti e chi vorrà ancora sostenere questa battaglia per monitorare di anno in anno quelle che saranno le iscrizioni, le perdite e quindi la possibilità reale della chiusura di questa scuola. Lo stesso consigliere Franco Manzo, che conferma il suo dissenso sulla scelta del nuovo piano che ridisegna la geografia scolastica sul territorio cavese, ha sgombrato il campo da un possibile strappo con la maggioranza. Io sono un consigliere eletto con il Partito Democratico, sono una persona responsabile e sostengo l'amministrazione per tutta la consigliatura. Sul discorso dei biberoni, consentitemi di non commentare. Intanto, sulle preoccupazioni espresse da genitori e docenti è intervenuto il sindaco Vincenzo Servalli, che ha illustrato anche le prossime tappe dell'iter che porterà all'attuazione del piano. I genitori sono, erano, sono e resteranno liberi di iscrivere i loro ragazzi nelle scuole che vogliono in relazione alle esigenze familiari, alla modalità di vita delle famiglie e così via. Perché si è detto anche questo, ma io poi non posso iscrivere, non è vero niente. E' stato molto enfatizzato questo ragionamento rispetto ai genitori e ai bambini. Si tratta soprattutto di una organizzazione che riguarda molto dirigenti, gli insegnanti e soprattutto la prospettiva di futuro delle nostre scuole a Cava dei Tirreni. Noi abbiamo già inviato la nostra proposta alla Regione Campania, che la vaglierà. La Regione Campania ha un ruolo molto importante in una visione generale del sistema scolastico. Noi abbiamo seguito i principi della Regione Campania, quindi sono abbastanza convinto che la proposta passerà. Ovviamente devo anche aggiungere che noi tra un anno, un anno e mezzo, se ci rendiamo conto, qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è il calo delle natalità. Cioè noi abbiamo delle scuole dove si iscrivono sempre meno ragazzi. Noi abbiamo una natalità nel nostro paese e nella nostra città con trend di decremento abbastanza significativi. Abbiamo già oggi scuole con dieci bambini dentro. Insomma, è chiaro che questo sistema prima o poi dovrà essere razionalizzato. La nostra proposta di dimensionamento è una proposta che tende a garantire nel medio e lungo periodo la presenza di sei istituti comprensivi sul nostro territorio e quindi la possibilità per tutte le scuole di continuare a svolgere le proprie attività.